del Paese in cui stiamo vedendo un comportamento da parte delle forze politiche che è veramente indescrivibile. Abbiamo tagliato i vitalizi e loro se li vogliono riprendere. Abbiamo fatto la legge sulla prescrizione che è legge dello Stato e adesso la si sta rimettendo in discussione per provare a cancellarla. Abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e c'è chi sta lanciando il referendum sul reddito di cittadinanza per prendersi quei soldi e metterli chissà dove in quali privilegi da cui li abbiamo tagliati. C'è una sola risposta e quella risposta è il popolo italiano e quel popolo italiano deve scendere pacificamente in piazza e manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia con il riprendersi i vitalizi. Ma man mano vedrete vorranno cancellare tutte le leggi che abbiamo fatto. Scendere in piazza significa vederci sabato 15 febbraio a Roma. Io sarò con voi, sarò con tutti coloro che stanno organizzando questa manifestazione e non vi dovete chiedere se la manifestazione del 15 febbraio potrà servire a bloccare la reintroduzione dei vitalizi. Voi vi dovete chiedere in quel momento preciso della storia in cui le parti politiche, alcune parti politiche si stanno riprendendo i vitalizi, io dove voglio stare? Voglio stare in piazza col popolo italiano o voglio stare a casa facendo finta che non sia così?